I carabinieri della compagnia Messina Centro hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Messina su richiesta della locale procura della Repubblica nei confronti di un 33enne messinese già noto alle forze dell'ordine con precedenti specifici per reati contro la persona, ritenuto responsabile di danneggiamento con arma da fuoco e detenzione e porto abusivo di armi comuni da sparo. Le indagini condotte dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia sotto il coordinamento della locale procura sono state avviate a seguito dell'esplosione di colpi d'arma da fuoco ai danni delle finestre di due abitazioni e di un'autovettura nella nottata dello scorso 15 settembre in un condominio del quartiere Giostra. In particolare i militari operanti hanno da subito avviato una serrata attività investigativa, riuscendo a ricostruire l'azione di fuoco e il percorso di fuga dell'autore del reato. È stato quindi documentato che la stesa è stata effettuata mediante l'esplosione complessivamente di sei colpi calibro 7,65 indirizzati alle finestre del piano terra di due distinti appartamenti. È stato così identificato il presunto responsabile, il quale muovendosi a bordo di una bicicletta pedalata assistita ha freddamente compiuto il gesto delituoso poi dileguatosi repentinamente nelle vie cittadine. Il 33enne è stato rinchiuso nel carcere di Gazzi a disposizione dell'autorità giudiziaria.